Ciao a tutti dal vostro caro Max Random Ragazzi oggi siamo qui su Fortnite per fare un altro video griff Ma ragazzi oggi qui andremo a griffare Una persona molto inaspettata che perché mi ha piccolato non lo so Però prima di iniziare con il video vi chiedo almeno 5.000 like E dico 5.000 like ragazzi dovete lasciare tutti quanti like adesso Se no puzzate allora perfetto perfetto Ragazzi in questo video ho nascosto una dinamite e voi dovete scrivermi qua sotto nei commenti il minutaggio in cui appare Se indovinate il minutaggio giusto nel prossimo video saluterò tre di voi che hanno indovinato Questo ragazzi questo bel personcino questo bel personcino si si proprio lui è un mio falso E' un mio falso infatti si chiama Max Random in Psylonti che poi io mi chiamo E' merda tattino basso Max Random ma vabbè si chiama Max Random in Psylonti ma vabbè vabbè Facciamo vita che ci crediamo E praticamente mi hanno detto mi hanno detto che lui si finge me per rimorchiare le ragazze Beh non so quanto possa essere intelligente come cosa perché non è che rimorchio poi così tanto Però dico beh non puoi fingerti me per rimorchiare le ragazze Tanto mi ha scritto ciao ciao Max Raga dovrò parlarmi da solito Tanto io mi chiamo Lollina96 sexy così da tirare di più la sua attenzione E queste che cosa sono? Due macchine La Lamborghini e la Ferrari che cos'è? Intanto ci sono un bordo Oh mio Dio Raga Ha costruito la tavolona Guarda che bella Dai questo ci sta dai Ci ha messo pure il logo che vabbè non si capisce tanto Però vabbè ha costruito la tavolona guarda che figata Ti faccio vedere casa mia Ok Adesso raga ci fa vedere casa sua Ma raga c'è ha rappresentato diciamo il mio canale la mia vita e le cose Non so ragazzi non so Vabbè detto questo volevo dirvi che adesso raga lo dobbiamo assolutamente griffare Questa è qui a casa sua Ah e volevo dirvi saluto Saluto Andrea Semienaro, Salvatore Todde e Massimo Pianta Grandissimi per aver trovato la dinamite Adesso saluto anche gli ultimi tre follower di Instagram Quindi seguitemi tutti quanti su Instagram Max Random, Ipsinontiuso minuscolo attaccato Saluto Karim2405, La Stordita e Teo Vitale334 Ok grandissimi, grandi per avermi seguito anche su Instagram Vediamo quanti di voi ha messo, mi seguiranno Allora, perché mi ha portato qui detto cosa sua? Vediamo qua c'è il ceso Postazione gaming La posetta Mi manca il fiato ragazzi, mi manca il fiato La postazione da gaming Da un milione di euro E questa è la postazione Bella vero Oh Bellissima Mamma mia La voglio Me la dai Essendo che lui ci ha fatto E trovi soltanto per rimorchiarci Perché questo è il suo obiettivo Sfruttiamo questa cosa E cerchiamo appunto di farci rimorchiare Per vedere come cerca di sfruttare Il mio nome Per rimorchiare e fare roba Si dai solo se diventi la mia fidanzata Guardalo che subito Guardalo che subito Aspetta prima chiediamo Quanti anni hai Chiediamo quanti anni ha Però lui pensa dica 13 perché giustamente sa tutto di mie 12 E allora Allora Può sapere tutto quello che vuole Ma gli anni Non ci ha ingarrato Io ho 13 anni maledetto Però va bene va bene va bene Io diciamo Io ne ho 14 Io ne ho 14 Sono grande Tuta per te Ecco Così è felice Adesso ce ne possiamo anche scappare Banca dove le cazze possono prendere soldi miei Allora questo qui da quello che ho visto è un po' Un pochino sgrammaticato ma leggermente Che cosa sta scritto fuori al castello? Casa Fugata Con i soldi di youtube Perché con i soldi di youtube Mi compro un castello Va bene È bello il castello Marco un dino di rodello Andiamo Andiamo Mi è partito Aspetta Scusa Scusa Ho le crisi Epilettiche Ogni tanto Mi parte il piccone Ok Così raga ogni tanto Ne approfittiamo per distruggere Mi è partito il piccone Ok Scusa Scusa Ci sono Ci sono È partito di nuovo il piccone Ok basta Mi sono avuto Scusa È partito di nuovo Bella topolona Oh mio dio Bella topolona Mamma mia Quanto sei buona Casa fatta per le fan Allora Allora Ormai sta diventando una moda Non è possibile Che tutti quelli Che devo griffare Puntualmente Vogliono fare Mh 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 Con qualcuno Sì che cosa c'è Il bel negozio Tra l'altro Io ce l'ho anche veramente Il negozio delle magliette Se volete trovate il link Qua sotto in descrizione Ragazzi Il negozio delle magliette Tra l'altro qui sopra È pieno di cartelli Supporto creatore E mi è datato Di nuovo passo MaxLand Beh raga A parte la topolona È l'unica cosa Che ho visto di buono E poi vedo tutti Instagram MaxLand Yt Beh anche questo è buono Ragazzi Seguitemi su Instagram MaxLand Yt Dobbiamo trovare qualcosa Per griffare Perché da quello Che mi è stato detto Qualcosa per griffare c'è Quindi dobbiamo cercare Di diciamo Distrarlo ecco Però prima volevo Esplorarmi un pochino Il resto delle cose Fai un giro Io vado a fare Una cosa in bagno Arrivo No 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 Aspetta Aspetta Adesso gli diciamo Giustamente come se fossimo Dei fan Gli diciamo Ma Mi saluti In un video Sì ok E poi aspetta Che cosa altrimenti Possiamo chiedere Ma li guardi I miei video Ma li guardi I miei Veido Sì sì Ma non Tutti Vabbè Gli ho detto Che non li guardo Tutti Così non sembra Un po' accanita Nella roba In griff Banca dove la cazza Possono prendere So Madonna Adà Mamma mia Ma quando Ti prendiamo Tutti Zucchiamo Tutto Ma Zucchiamo Tutto Tutto Guardali Oste notti Grifo Ma come Ma come Guardali Oste notti Grifo Va bene Va bene Ma hai ragione Hai ragione Hai ragione Busco Creatura Max Random Life No vabbè Rappresentato Il bosco Di Max Random Life Ha scritto R C'è un bot C'è un bot Questa è la creatura È la creatura Di Max Random Life Ammazziamo Ho chilato la creatura No è spawnata di nuovo Via via Scappa scappa Non ci voglio morire Scappa scappa Brava Eh Sì sì Brava Scappa scappa Allora adesso iniziamo ad andare Un pochino qua intorno Per vedere cosa non abbiamo ancora visto Beh non abbiamo visto ancora La palestra dove Faccio Cacate Vado in bagno Devo fare gli escrementi Gli escrementi Però la cacca Però vabbè Comunque palestra che faccio cacate Forse karate Non cacate Forse karate Qua c'è un tappeto Va bene Un tappeto giusto Giusto Mimì Ci sta il tappeto Grifiamo 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 tutto Grifiamo Raga è andato in bagno È andato in bagno È il momento di grifare ragazzi È il momento di grifare Comunque sto laggando un bot Aiuto È il momento di grifare ragazzi È il momento di fare il grif definitivo Quindi adesso andiamo un pochino intorno Dobbiamo cercarci qualcosa Assolutamente No raga Io sto girando per Tre ore Sto girando per tutta la mappa Eh Monnezza Con dentro monnezza Non aprore monnezzaro Eh È cattive Che Ma che cosa Ma da quando la monnezza Si può aprire Guardate Si è scritto cerca Aspettate un attimo Perché non si sente nessun rumore Quindi vuol dire che non è neanche una cassa C'è Come si fa ad aprire Una Una cosa di monnezza Va bene Va bene Però L'ho fatto dopo spanzare monnezza Con dentro monnezza Non aprimo monnezza Vabbè spacchiamo Vediamo Oddio Eh Questa ci piace Questa ci piace Questa ci piace Anche lui è andato in bagno Abbiamo Abbiamo la dinamite Abbiamo la dinamite Cerchiamo Teniamoci il piccone in mano Per essere sempre meno sospetti Raga abbiamo la dinamite Lui è andato in bagno Lui è andato in bagno Ma guarda Lui si finge Eccomi No cavolo No proprio ora Proprio ora no Proprio ora no Eh Eh ciao Spegni Spegni E Monitor Del PC Togli Le cuffie E immagina Noi due Che Facciamo Ok Perfetto Poi Poi Tra no Tra cinque minuti Così poi possiamo vedere cosa dice Tra cinque min Torni Ciao Raga L'unico modo per distrarlo Era quello Adesso ho spento il monitor Si è tolto le cuffie Adesso sto immaginando Io e lui che facciamo Mula mula Si 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 va bene E adesso ragazzi È arrivato il momento Di griffare Beh dai Per essere una mia copia Si è impegnato molto Ha costruito Un'autopolona gigante Ha costruito La palestra di carata Ha costruito La casa Ha costruito Le La banca Dove ci sono i soldi Sì vabbè Certo La casa fatta per le fan Non mi non Sto qua Un pervertito ragazzi Vuole rimorchiare Soltanto fingendo di me E merita una munizione Io ragazzi Non vorrei iniziare Dall'autopolona Perché forse È l'unica cosa Che vorrei rimanere intera Sinceramente Quindi ragazzi Adesso iniziere Di spargere c4 Un po' ovunque E di fare esplodere tutto Perché non puoi Fingerti me Per fare Per rimorchiare Le ragazze Non puoi farlo Non puoi farlo Perché Non è giusta come cosa Ognuno per rimorchiare Le ragazze Deve essere se stesso Non puoi fingerti Un'altra persona Per rimorchiare Non va bene Non va bene ragazzi Non va bene assolutamente Quindi facciamo esplodere Il negozio di magliette Iniziamo con questo ragazzi Iniziamo con questo E adesso ragazzi Si inizia con il grifo Tanto lui adesso Non dovrebbe accorgersene Di nulla Tanto lui è scemo Quindi Ascoltato quel che io ho detto E adesso Andiamo a distruggere Ovviamente Sapete cosa Beh i cartelli supporto Creatore Instagram Li lascio Perché comunque Mi piacciono questi cartelli Eh ragazzi Tutti quanti come creatore Allora qua faccio così Poi faccio così Poi faccio così Faccio spaccare Tutta quanta la base ragazzi Tutta la base di questo Così che poi Crolla tutto In un barter d'occhio Ragazzi Raga Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Se questo Questo maledetto Se lo merita Perché secondo me Se lo merita E anche tanto Vai facciamo Esplodere ancora tutto Ancora tutto di più Vai Aia sono morto Ma l'olino 96 sexy Ha fatto il botto E cavolo Vabbè torniamo giù Torniamo giù Tanto la roba Sta ancora lì Non è un problema Ok Vai Spacco questo Spacco questo Spacco pure questo Addio Facciamo Abbiamo già Abbiamo già No Però non Un shot Neanche i muri Che cavolo Ok Raga Va bene così Va bene così Perché poi non ci mastano Per distruggere Casa nostra sono passati 5 min no ancora e madonna mia casa mia no raga dove mandati a distruggere almeno la postazione da gaming ragazzi che è da gaming poi distruggiamo sta postazione che non può essere chiamata tale è un cavolo di buco è un quadrato che non funziona di un spazzo di mano che è più soddisfacente per me ne piazza una qui e poi usciamo fuori e ne metto anche uno di questo qui e facciamo da 3 2 1 ok beh non è stato il grief migliore di sempre perché diciamo che non abbiamo tanto non abbiamo avuto tanto di quello esplosivo per far distruggere tutto quindi ragazzi mi dispiace soltanto per questo mi dispiace soltanto per questo sono passati ti piace aggiustato il mondo ora è più bello raga lo facciamo uscire matto questo lo facciamo uscire matto oh guarda che spammò guarda che spammò e adesso raga gli bildiamo ovunque gli bildiamo ovunque gli bildiamo ovunque gli bildiamo ovunque vai bilda 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 tutto bilda tutto ci ho messo 3 anni e io ce ne ho messi di 9 come matti beh se hai 3 anni allora hai qualche problema perché te ne dovresti avere uno la topolona la lascio perché è fantastica ragazzi guardate che figata è sta topolona vabbè ragazzi aspetta riveliamoci vai vai zocco oh prima avevo cercato di manucchiare guarda com'è falso falso vergognati so che non sei vero max vai killami 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 e vuoi sapere chi sono io invece e vuoi sapere invece chi sono io brutto babbuino chi sono io realmente se lo immagina perché chi è che ti viene a gifare la base aspetta io sono il vero max e sappi che non scrivo così sgrammaticamente vai a scuola perfetto ma non è vero ahhh guarda dal sfidimento al centro ha quittato ha quittato raga ha quittato ha quittato se ne stanno scappando alle bada nei caraibi proprio via scappa scappa ti conviene ti conviene vabbè ragazzi il video di oggi finisce qui se vi piace lasciate un bellissimo pollice all'insù iscrivetevi al canale e fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete altri videoclip del genere noi ci vediamo 5000 like e ciao ragazzi vai non ti lascio sola bella topolona mamma mia quanto sei buona io canto a squarciagola per la mia topolona vieni qui rispondi ora la 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 Ciao, ciao.